Oh, chiamate l'ambulanza, va? Ma poi ci chiamano l'ambulanza, va? Ma voglio farmi pure! Ma poi ci cazzo, stavo tanto comodo! No ragazzi, qua la più buona è giugna. Ma che stai? Ma come in personale che ti faccio? Non voglia, 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 non voglia. Ma no, cosa fa? Vuoi copiare, vuoi copiare, copiare? Ma no, c'è fino. No, chi è? No, va, non stai ancora in moglie, vuole parte. Mi spiango. Va, dopo metti la canzone per me. l'amore d faccio un po' di piante quale qui qui ok 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 ma magari a parte prima stelle umberto guarda guarda io ho fatto 2.4 ho fatto 4.500